Dovrebbe essere la nuova caserma da consegnare presto ai vigili del fuoco, ma appena si arriva nella zona, nei pressi del mercato dei fiori, si si trova di fronte ad uno scenario desolante. Più che una caserma, la struttura sembra un vecchio casermone in disuso con cespuglie d'erbacce, quasi ad altezza duomo, per cui è praticamente impossibile cercare di avvicinarsi al cancello seminascosto alla vista. Intorno ci sono naturalmente rifiuti di ogni genere, perché sulla strada adiacente alla struttura le auto, che sfrecciano veloci, ogni tanto lanciano qualche souvenir, senza farsi scrupoli di cose significa il rispetto dell'ambiente. E in merito proprio all'attuale stato dell'arte della caserma, di recente qualche consigliere comunale ha pur effettuato un sopraluogo e dopo aver constatato di persona la situazione, si è anche premurato di presentare un'interrogazione consigliare, nella speranza ovviamente che sia sufficiente a smuovere la fase di stallo dei lavori per capire quando gli stessi saranno ultimati e quando questa caserma potrà essere definitivamente consegnata ai vigili del fuoco.